No Suri ti spiego Praticamente è un omaggio a Walter White Perché oggi è la festa del papà Capito? Ora va fuori in Moscova e va a vendere le medicine È uscito un nuovo post sul profilo Mates Collection Questa è la filpa col demone sulla schiena Andate a vederlo, vi lascio il link qua sotto Nello store di Fortnite è disponibile Un nuovo pacchetto che vi permette di avere Una nuova mimetica che sembra un ananas Un mandolino fatto con un ananas Personaggio nuovo veramente figo Mi raccomando acquistatelo con il codice creatore Stepney Auguri oggi anche San Giuseppe Te l'hai rimenticato Ma chi li guarda i santi scusate Che vuoi fare? Muori È ancora viva Grazie a tutti Grazie a tutti.